L'Aquila svolta verso la mobilità elettrificata e lo fa con un corposo investimento di 8 milioni di euro composti da 5,7 milioni del fondo Restart e dalla restante parte di finanziamento regionale comunitario. Si punta così a sostituire una parte del parco auto della municipale e dei bus per quanto riguarda il settore pubblico mentre sul fronte dei privati, grazie anche all'implementazione delle colonnine di ricarica si cerca di spingere i cittadini verso la bici a pedalata assistita e l'auto a zero emissioni. Per quest'ultimo settore gli incentivi prevedono un contributo di 8 mila euro per aziende e professionisti che scende a 4 mila per i privati, incentivi che si sommano alle iniziative nazionali. Per le e-bike invece è stato aumentato il contributo che arriverà con il decreto rilancio con una cifra di 500 euro. Gli obiettivi ambiziosi e poi in linea con quelle che sono le misure recentissime a seguito dell'emergenza coronavirus perché si sta puntando moltissimo sull'emergenza sostenibile e noi stiamo proprio lavorando su una rete di mobilità dell'emergenza che prevede di dare ampio spazio appunto alle bike elettriche, alla mobilità elettrica cioè chiudere parti di città dove però è consentito circolare con le auto elettriche.